Ciao ragazzi, noi siamo i Toroeg 483. Oggi abbiamo tanta tanta roba. Infatti il video sarà diviso in due parti. Abbiamo un box intero di origine perduta. Sparchetteremo solo per voi. Quindi oggi dividiamo 18 bustine e facciamo 9 io e 9 il cardo e prossimo video vedrete le altre 18 di questo box. Iniziamo subito. Ma quanto è bello un box intero. Quanto è bello un box intero. È stra bello. Allora, codice sempre in regalo, ve lo ricordiamo. 1, 2, 3, 4 e qua gratta già. Ok, non si doveva vedere. Ok, abbiamo intravisto qualcosa. Gasly, Venacol, ah Marco, ok. Wampol, Energia Lotta, Poliwheel, Likki, Lumi, Neon, Clefairy e... Galate V. Full Art. Questo è un gran Pokémon. Codice. Mimikyu. Mimikyu. Rara. Rara, sì, non grafica. Codice. Mi sembrava liscia. Si è sentito, vero? Era liscia? Sì, un pochino sì. Gumi. Mowire. Lumi. Clefairy. Rosè. Energy a fuoco. Liku di Isui. Electric. Marisio. Uuuuuh! Pikachu Trainer Gallery. Questa... Questa tanta roba questa carta. Not bell per niente e un Cresselia raro. No, è buona. È olografico, è olografico. Questa tanta roba. Questa per niente è brutta. Tanta roba questa. Una bella Trainer Gallery. Forse è una delle carte che vale di più del set. È ancora però non si sa benissimo i prezzi. Andiamo avanti perché. Menyx, due pacchetti. Chiaramente due pacchetti, niente male. Mi sa che gliele faccio aprire tutti a lui. Codice. Ah, sì, vedi? Il codice era bianco, infatti ho trovato la tena in galle. Oh, attenzione, anche qui abbiamo una carta strana. Gratta. 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 C'era il segnolino di astro. Tirami fuori un gratina, forza. Coincidenze? Fix. Ma qui c'è. Bronzor. Oh, no. Ma cosa? No. Ah, ok. Allora la seconda gratta quindi dovrebbe essere una lucente. Magnazor, ragazzi. Questo però c'è un trick un po' diverso. Però è stra bello comunque. Ma l'outwork? Questo mi piace. Molto in movimento. Minion, Mako, Gallings e un altro. Oh, due in un pacchetto! Due in un pacchetto! Rainer Gallery, bomba Gallade. Quasi tutto Gallade. Quasi tutto Gallade. Stra bella anche questa, ragazzi. Due B in un pacchetto. Sono un sacco di Galli oggi. Questo è il God Pack. Questo è un pacchetto... come si vuol dire? Come si vuol dire? Baggato. Baggato, però. Baggato in positivo. Baggato in positivo, sicuramente. Attenzione che qui abbiamo, oltre che il Cotaro bianco, ma in più ho notato che abbiamo anche la... Un'altra? La Viastro. E mi sembra che è forse un pochino addirattata, però non lo so, eh. Tirami fuori un'altra Trina Gallery, dai. Quella con Charizard è perfetta. Eh, quella è bella. Quella è stra bella. Flaiger. Fantump. Sudovudo. Bronzor. Chiarthorque. Fenni. Gastrodon. Bellissimo con tutti e due. Hunter. Ambipom. Reverse. Quindi la Trainer Galline non ci dovrebbe essere. E Raiperio raro. 12. Mi sembrava abbastanza liscio questo. Però... Non ci so mai. Qui abbiamo visto delle sorprese in mezzo, eh. Eh, già in sto video siamo ancora all'inizio, perché ancora abbiamo un sacco di bustine, ma... Niente male. Energia regalo. Dopo la regalo al massimo. Shellos e Buffalant. Ah, con quella cosa che hanno messo in questa espansione. Guardi c'è nero. Uno, due, tre, quattro. Uno. Questa è molto liscia, quindi potrebbe essere una V. Però l'hai sentita V. Eh, l'ho sentita molto, molto, molto liscia. Quindi dai. Ipom. Roselia. Gumi. Meditite. Energy Acciaio. Electric. Marisio. Ormai 30. Gloom. Che artwork bellissimo. Malamar. Reverse. E Drapion V. Drapion V. Ma sai che carina. 8 carina. Attenzione. Un'altra V abbiamo trovato. Un'altra V. Un'altra V. Gheratina. Dai. Dov'è sto Gheratina? Stiamo aspettando. Lui eh. Codice. Gheratta. Gheratta. Oh. Qualcosina ci potrebbe essere qui. Chi può l'alternativarsi così. La tiro lì eh. Si. Un bel Gheratina. Ma puntiamo quello eh. Però anche un Aerodactyl. Anche un Aerodactyl. Quello schifo non fa. Oh. Aerodactyl. Aerodactyl. L'ha trovato. Aerodactyl. Bellissimo. Però noi siamo contenti lo stesso. La collezione questa qui è perfetta. Che carta. Che carta. Ma poi guarda l'Hartwork è fantastico. Cos'è che ho detto? Un bello Aerodactyl. Che io preferisco questa Gheratina per l'Hartwork. Però sì. Effettivamente. Mamma mia ragazzi. Bellissima. Perfetto. Insieme. E adesso quindi di conseguenza anche un Gheratina alternativa. No. Adesso non siamo troppo male. No. Io voglio essere Avaro. Voglio essere. Vogliamo esserlo? Avarissimo. Sì dai. Codice. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, gratta. E 2. Attenzione alle stelle. E' questa. Ai 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 ai. Oliwag. Oddish. Drowlight. Sidot. Strugma. Energia fulmine. Non facciamo vedere. Dottler. Maschera di panico. Sidra. Oh! Banette. Trainer Gallery. Aspetta. Banette perché grattava. Fermi tutti. Fermi tutti. E' una gold. E' una gold. E' una gold. E' una gold. Ok. Vado. Va bene. Va bene. E' sempre una gold. Va bene. E' sempre una gold. E' anche questo. Che pacchetto ragazzi. Mamma mia. Che cos'ha questo box. Che cos'ha? Che cos'ha? Mamma mia. E' una gold. Oh. Quando ho visto una gold. Gartina. Però. Va bene così. Ragazzi. Potremmo fare tanti altri video. Se continuiamo a posire. Sì sì sì. No. Compriamo 200 box. Perlomeno. Abbiamo scolato tutti adesso. E gli altri. Sì. E gli altri pacchetti. Sono vuoti. Non è vero. Non è vero. Questa. Mi sembrava. Liscina. Però le trainer gallery. Non si sentono. Esatto. Infatti. Una sorpresa. Potrebbe sempre esserci. Finora. Non l'abbiamo minimamente sentito. E' bello questo lì. Eh dai. Regala emozioni. Questo set. In questo box. Oh. Eccola qua. Arcanai. Arcanai. Bisogni. bella anche questa. Tanta roba. Ma che cosa sono questi trainer gallery? L'abbiamo detto. Non si sente la trainer gallery. Quindi fino alla fine. Rimanete connessi eh. Assolutamente. Dovete guardare tutto. Gratta. No. Gratta. No. Questo no. Vi ho preso in giro. Ok. E. E. Bolivra. Bello però. Bella questa sì. E' una rara. Non è olografica. Ma bella Artwork anche questa. Odice. Dai dai. Regaloci emozioni. No. Qui mi sa che non c'è niente ragazzi. Ricordatevi sempre la trainer gallery. Non si sente. Non si sente. Potrebbe esserci la sorpresa. Che tra parentesi tutte sorprese quelle lì che abbiamo boccato. Ah sì. Ti direi proprio di sì. L'Astronom. Arsysfan. Machok. Traverse. E. Banenteraro. Allora io le ultime tre. Te quante ne hai? Tre. Tu ne tre. Occhio che questo era un pacchetto un po' più duro eh. E c'è il codice bianco. Ok. Attenzione. Potrebbe esserci una trainer gallery. Quando trovate il codice bianco nei pacchetti ragazzi. Potrebbe esserci una trainer gallery. La possibilità c'è. E ho sentito anche liscio se non sbaglio. Forse ho sentito. Eh no. Niente. Ho sentito la reverse. Va bene. Ok. 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 Anche questo che bello. Non è nel live. C'è il codice. Reverse. È un hyper. No. È un allenatore. Bello però. Hyper. Bello. Noi dobbiamo smetterla di dire cosa vogliamo nei video. È vero. Quello che è tutto quello che vogliamo non viene fuori. Non viene. Tranne quando è un Ubrion. Ah beh. È vero. È vero. È vero. Anche quello. Eh ragazzi non so cosa dirvi. Qua liscio anche qua. Magari mettiamo diritte. Lady. Lampert. Cascun. Reverse. Bile Plume. Bile Plume. Olografico. A me rimane anche l'ultimo pacchetto. Però con Geratina. Che sia un segno. Niscio. Niscio. Bile Plume. Reverse. E Parasec. Ultima bustina. Con Geratina. Vediamo se ci regala emozioni grandi. Questa bustina per Fenix. Perché Cardo ne è ancora un'altra. Cardo ne è ancora un'altra. C'è sempre bianco. Lady. Reverse. E Confi. Raro. Va bene. Bianco. A questo punto non so più se... Forse qualcuna. Trainer Galer. Forse. Fon. Mediton. Ok. Reverse. E Aredos. Bellissimo l'Arthur. Che strastra bello. Questa... Metà di video è andata. E ci rimane ancora... Metà box. Spolliciate tantissimo. Così facciamo uscire anche i commenti. Tanti commenti. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina. E ci vediamo al prossimo video allenatori. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.